Anche i laboratori di lega ambiente tra le attività del progetto comunale natale dei bambini all'interno del centro espositivo di arte contemporanea della salita Matteotti. Sin da ieri 30 dicembre dalle 17.30 fino alle 20 i bambini di ogni età hanno potuto divertirsi e partecipare al laboratorio di lega ambiente curato da Caterina Russo e Ivana Gentile. Le attività sono riguardante la natura, il Natale, c'è la storia dell'albero, ci sono laboratori artistico, ci sono laboratori con il recupero di oggetti. La presenza è stata molto vasta nel senso come ragazzi e bambini, anche di visite dei genitori, è stata una bellissima esperienza. Così il Natale dei bimbi nisseni diventa ecologico grazie a creatività, riciclo, riuso, costruendo dei giochi di vento e realizzando cassette per gli uccellini della città.